Il cuzzedello può essere indicato come la marenna più antica napoletana perché comunque a Napoli per fortuna c'è tanta buona cucina, il pane è ottimo e veniva utilizzato tanti anni fa come riciclo di quello che restava del giorno prima o comunque il giorno successivo per andare al lavoro anziché comprarsi un panino dal classico salmiero supermercato con prosciutto e mozzarella, tante persone preferiscono mangiare qualcosa di cucinato il pane si bagna degli ingredienti, dei sughi che mettiamo all'interno ed è saporito noi usiamo pane fresco tutti i giorni perché per attività lavorativa bisogna fare così ma in casa a volte lo si fa anche col pane del giorno prima con il cuzzedello che è un marchio registrato ed è stato aperto il 22 settembre 2016 tra i cuzzedelli più venduti come possiamo vedere adesso nelle immagini vediamo quello con polpette ragù e melanzane a funghetto e quello con salsiccia e fiarelli tra rigolette sono più venduti perché non riusciamo a calcolare quanti ne vendiamo invece di quelli con la carne alla genovese grazie grazie